Ben trovati, nuova edizione della TG6 L'Aquila, apertura delicata, bilancio regionale perché la Corte dei Conti censura la Regione Abruzzo per i ritardi nel riaccertamento dei debiti e della tempistica di approvazione dei bilanci. L'assessore Silvio Paolucci spiega però che è impossibile farlo prima del patto di stabilità del Governo. Filippo Tronca. Siamo stati tra le primissime regioni in Italia ad averla approvato il 2 di dicembre, molte altre regioni in giunta sono arrivate tra il 15 e il 20 e anche oltre di dicembre. In secondo luogo bisogna tener conto che senza la legge di finanziaria nazionale del Governo non si conoscono neanche i trasferimenti che vengono erogati alle regioni e quindi è difficile comporre un bilancio non avendo il dato delle entrate. I tempi astratti presi in considerazione della Corte dei Conti non sono quelli della politica della vita reale e dunque inevitabile per la Regione Abruzzo come per tutte le altre regioni italiane approvare oltre le tempistiche stabilite dagli statuti e dalle leggi dello Stato il suo bilancio di previsione entro ottobre e prima ancora il documento di programmazione economica e finanziaria. Se prima il Governo non ha approvato la sua di manovra finanziaria, cosa che ancora non avviene. Questa è la risposta dell'assessore regionale al bilancio Silvio Palucci alla deliberazione del 3 dicembre della sezione di controllo della Corte dei Conti che è tornata a censurare la Regione Abruzzo proprio per lo sforamento dei tempi avvenuti nel 2014 e che si ripeteranno quest'anno e per non aver effettuato la ricognizione dei debiti pregressi. Ma hanno rilevato che nello statuto della Regione Abruzzo ci sarebbe scritto il 31 ottobre come tempo di approvazione tenuto conto che è uno statuto evidentemente datato sul coordinamento tra la legge nazionale e la legge finanziaria regionale. La manovra di bilancio sarà approvata dall'Aggiunta proprio questa sera e arriverà in Consiglio si presume intorno a Natale. Ieri intanto sono state consegnate le rindicontazioni e riaccertamenti dei debiti aggiornati al 2013 con la conferma che sull'Abruzzo grava un salasso da 538 milioni di euro che dovranno essere pagati con rate annuali da 70 milioni. Ma la colpa di tutto ciò, sottolinea Polucci, è delle precedenti legislature. Ci sono 538 milioni di euro di debiti secondo l'ultimo riaccertamento dei residui che è quello del 2013 che abbiamo fatto noi nel 2015 e vorrei solo ricordare che l'ultimo riaccertamento fu del 2004. Ecco perché trovo assolutamente ingenerosi, capziosi e del tutto fuori luogo alcune argomentazioni che utilizza l'opposizione quando per sei anni non ha fatto il suo dovere sul riaccertamento dei residui. Siamo noi correndo e cercando di mettere rimedio e riparo a quelli che sono ritardi di lunghissimi anni. Ci occupiamo adesso della biblioteca provinciale dell'Aquila Salvatore Tommasi da oltre sei anni ancora dislocata nel nucleo industriale di Bazzano in attesa che venga appunto ristrutturata l'antica sede di Piazza Palazzo. Ci sono però all'orizzonte ulteriori incognite soprattutto sul fronte finanziario. I dettagli li scopriamo nel prossimo servizio. In attesa della ricostruzione della sede storica di Piazza Palazzo la biblioteca provinciale Salvatore Tommasi a oltre sei anni dal sisma è ancora ospitata in un edificio del nucleo industriale di Bazzano. Un'ulteriore incognita è ora rappresentata dal piano di riordino delle province. La competenza relativa alla gestione delle biblioteche abruzzesi infatti dovrà passare alla Regione ma come più volte sottolineato dal Vice Presidente della Giunta Giovanni Lolli sarà comunque necessario un intervento finanziario e una presa in carico da parte del Ministero dei Beni Culturali perché la Regione alle prese con un bilancio da far quadrare con difficoltà potrebbe non farcela da sola. Ad oggi la biblioteca Tommasi riesce a coprire solo la normale amministrazione senza alcuna possibilità dell'acquisto di nuovi libri. Un'anomalia in una città universitaria come l'Aquila dove la biblioteca rappresenta un servizio indispensabile in primis per migliaia di studenti. Al nostro microfono la direttrice della biblioteca provinciale Maria Concetta Ruffo. C'è ancora un po' di caos istituzionale, sicuramente al momento la cultura e quindi anche la biblioteca è una funzione inessenziale per quella che è rimasta provincia o meglio ente di area vasta e quindi era stata buttata giù una proposta di legge regionale che ha visto noi direttori di biblioteca è proprio parte attiva. Cosa prevedeva questa legge? Ma prevedeva un sistema bibliotecario abruzzese unico, quindi sicuramente la messa in rete di tanti servizi e di buone prassi e sicuramente penso che sia il futuro dell'Abruzzo. Però diciamo che a livello regionale ci sono degli step progressivi e dettati anche forse da limiti di risorse. Ci occupiamo adesso del Fondo Sisma del Terremoto perché sarà Susanna Camusso, segretario generale della CGL, a chiudere i lavori dell'evento finale del programma Fondo Sisma che si terrà all'Aquila martedì 15 dicembre all'auditorium del Parco a partire dalle ore 9.30. La presenza di Camusso ha il senso del forte e costante controllo sul territorio e sulle modalità di organizzazione delle somme raccolte all'indomani del sisma dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati in sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. Sono stati circa 15 milioni di investimento, di cui più di 7 donati dai lavoratori di tutta Italia e quasi 8 cofinanziati dai soggetti beneficiatari. La presenza di Susanna Camusso è una testimonianza indiscutibile di attenzione al territorio, ha spiegato il segretario provinciale CGL, componente del Comitato Locale di Promozione del Fondo, Umberto Trasatti. Il programma Fondo Sisma è stato di tale intensità da richiedere un costante monitoraggio. Il nostro obiettivo era non solo quello di spendere bene quanto ci è stato donato, ma anche di incentivare e motivare a nuove sfide di crescita dopo l'evento traumatico subito. Nel corso dell'incontro sarà proiettato anche il videodocumentario realizzato da Francesco Paolucci e Stefano Gianni, che raccontano i tre anni del programma attraverso le interviste ai protagonisti. L'Aquila Film Festival continua il cartellone anche oggi. Il rapporto tra informazione e manipolazione è alla base del menu di oggi. Vediamo i dettagli nel servizio di Filippo Tronca. La rete che dà agora a teatro della libera e orizzontale comunicazione, che diventa micidiale strumento di manipolazione di massa. Il ruolo insostituibile del lavoro del giornalista, che ha l'abitudine di filtrare e verificare la notizia, e il resto è un baluardo contro l'invasione delle bufale e delle improbabili false flag. Il potere che nasconde le informazioni intimidisce i giornalisti con leggi bavaglio e querele temerarie. Tanti e tutti interconnessi i temi al centro del convegno su informazione e manipolazione, oggi all'auditorium del Parco dell'Aquila, uno degli eventi previsti nel cartellone della non-edizione dell'Aquila Film Festival, che proporrà fino al 18 dicembre una rassegna dedicata al cinema d'autore, con proiezioni giornaliere, convegni, dibattiti, workshop, concerti, degustazioni e molto altro. Protagonisti della prima sezione del convegno, Ettore di Cesare, consigliere comunale all'Aquila, ma soprattutto una delle anime di Open Police, associazione che della trasparenza della pubblica amministrazione ne ha fatto una ragione di vita, e Valeriano Salve, tra i massimi esperti italiani di social media. Il mestiere del giornalista dovrebbe anche essere quello di tirare fuori storie dai dati, tirare fuori delle notizie dai dati, e finché questi dati non sono a disposizione, la disparità di informazioni tra chi ha il potere e chi non ce l'ha, come dire, pregiudica lo stesso funzionamento della democrazia. Quello che possono fare a nostra insaputa su come colossi come Google, Facebook, possono veicolarci delle informazioni a loro scelta, in maniera totalmente inconsapevole per gli utenti. Il fatto che raccolgono una gran mole di dati, spesso per gli utenti è completamente trasparente questa cosa, un utente non si rende conto di quanto della propria vita cede a questi colossi dell'informazione, ed è un rischio, insomma. Tira le somme il presidente dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. I giornalisti stanno lì a fare i cani da guardia nei confronti dell'opinione pubblica per disvelare queste cose, a scaricare sull'informazione questi elementi di contraddizione significa fare un danno alla democrazia. La legge Bavaglio sicuramente è un elemento che danneggerebbe in maniera fondamentale il diritto di critica. Si avvicina il Natale all'Aquila, ci sono i mercatini natalizi. Fino al 23 dicembre sarà possibile ammirare oggetti di artigianato locale e assaggiare prodotti tipici, il tutto appunto nei mercatini allestiti, nel parco del castello vicino all'auditorium di Renzo Piano. Daniela Rosone. Sino al 23 dicembre il parco del castello sarà animato dai mercatini di Natale, una magica città fatta di oggetti di artigianato e di prodotti locali. Nella giornata di apertura dei mercatini il movimento è stato buono e finalmente all'Aquila si inizia a respirare l'atmosfera natalizia. Oggi c'è stata parecchia gente, la gente gira, è una bella cosa per l'Aquila, ogni tanto anche all'Aquila si fa qualcosa. Mi piace l'idea, è stata una bellissima iniziativa, almeno questo per l'Aquila è un richiamo pure, per la gente che viene da fuori, insomma, che mi trovi da pescare a posto. e quindi tornerò sicuramente perché mi piace, c'è un po' di movimento, c'è movimento, insomma. È bene, è bene, c'è una buona affluenza, molta curiosità, insomma, nei confronti di prodotti artigianali. Che cosa producete? Birra, birra artigianale, quindi birra non filtrata, non pasteurizzata, al 100% naturale. Ho sentito parlare del mercatino e quindi sono venuta qui a dare un'occhiata e devo dire che è stata un'idea molto bella anche per avvivare il centro e tutta questa gente è sempre piacevole. Sotto l'albero del riciclo al Parco del Castello, le comitive in visita all'Aquila scattano selfie e foto. Tanti turisti e studenti si fermano ad ammirare quest'albero di Natale così particolare. Di dove siete? In Sicilia, provincia da Grigendo. Come mai vi trovate qui all'Aquila? Studiamo qua, è già da quattro anni che siamo qua, stiamo studiando diciamo. Come vi sembra questo Natale aquilano? Molto diverso, io da quattro anni che sono qua e quest'anno sembra Natale. Da dove arrivate? Rosetta degli Abruzzi. Quindi siete venuti apposta all'Aquila per questo Natale? Sì, siamo venuti a fare un giretto così approfittando della festa. Veramente bella, una bella idea perché a Parigi stanno facendo adesso, tentando per l'ennesima volta l'accordo per abbassare l'emissione della CO2 e quindi questo albero con materiale riciclato è proprio intonato con l'evento di Parigi. È una buona cosa per la città, certamente. Per dare un po' di vivacità e per fare vedere che la città sta rinascendo senz'altro, sì sì. Va bene. E di quest'albero di Natale, l'albero del riciclo? Sì sì, questo è molto bello e anche significativo. Siamo allo sport, parliamo dell'Aquila Calcio presentato ieri pomeriggio all'Auditorium Sericchi, il calendario ufficiale 2016, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Aquila Calcio, Corrado Chiodi, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Ascoltiamo tutto nel servizio. A due anni di distanza torna il calendario ufficiale dell'Aquila Calcio, che è stato presentato nel pomeriggio di ieri all'Auditorium Sericchi. Alla presenza tra gli altri della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza, il direttore generale Fabio Guida Aureli ha spiegato come sia nata l'idea di ripristinare la tradizione del calendario, interrotta nel 2013. L'obiettivo è stato quello di riallacciare rapporti con il tessuto sociale e di progettare scatti che ritraessero i calciatori rosso-blu nei luoghi più significativi della città. Al progetto, sponsorizzato dall'imprenditore Matteo Gianfelice di Ecodisc, hanno preso parte 13 fotografi aquilani. Fabrizio Tomei, Daniele Di Benedetto, Luigi Baione, Luca Pitone, Ragnero Pizzi, Paolo Baioni, Stefano Pettine, Maurizio e Simone Santarelli, Chiara Tarullo, Marcello Spimpolo, Roberto Grillo, Manuel Romano e l'ex bandiera dell'Aquila Calcio, Gian Paolo Rossi, che compare in copertina assieme all'attuale tecnico rosso-blu Carlo Perrone. Tra gli scatti c'è anche quello del gruppo aquilano di azione civica, Iemo Nanzi, già partner dell'Aquila Calcio in occasione della campagna abbonamenti estiva. Soddisfatto della riuscita del calendario, il presidente Corrado Chiodi. Dal 2013 al 2015 torna finalmente il calendario ufficiale importante come segnala la città. Senza dubbio, io ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questo progetto, in primis Matteo, che è questo imprenditore che lavora a Milano ma si sente parte integrante dell'Aquila perché è una persona, oltre che essere un tifoso, è uno che ci tiene a questo tessuto sociale che noi stiamo cercando di ricreare con molte difficoltà. Sappiamo tutti che adesso in questo momento le problematiche economiche colpiscono un po' tutti e quindi tutti coloro che fanno sforzi del genere devono essere soltanto premiati. Ringrazio tutti i fotografi perché anche questo è stato un esempio di armonia e maggiormente di solidarietà nei confronti di tutti perché l'hanno fatto a titolo gratuito, quindi non hanno avuto compensi e riconoscendo un grosso lavoro dietro a tutto questo. Quindi è stato veramente un evento eccezionale. Ringrazio il gruppo Iemonnanzi che ormai sono presenti nelle nostre iniziative e che forse loro sono la testimonianza vera della città. Io sono contento che dopo due anni abbiamo ricreato questo progetto così importante che sicuramente ci aiuterà a stare insieme. Il calendario dei Rossoblu è in vendita al costo di 5 euro al momento all'edicola in località San Francesco, all'edicola Agostini di fronte al bar Belvedere, all'edicola di Pettino, a quella adiacente allo Stadio Fattori, alla tabaccheria dei Simone e al multiservice di Marco Turzini. Ma presto verranno comunicati altri punti vendita sul sito www.l'aquilacalcio.com È tutto, l'edizione della TG Se l'Aquila finisce qui. Vi ringraziamo per averci scelto. Buon proseguimento con i programmi di TV6. Arrivederci. Grazie a tutti.